Chi è al posto di Nicola Strambelli? Questo l'interrogativo che accompagna Pasquale De Candia, allenatore del Barretta, verso la sfida di domenica pomeriggio sul campo dell'Arboris Belli. L'unica certezza è l'assenza del numero 10 barese espulso all'ultima curva nel 2-1 contro il Novoli, complice una seconda ammunizione per esultanza parzialmente giustificata dalla gioia incontenibile per una vittoria firmata all'ultimissima curva. Così ad Alberobello, la capolista del campionato di eccellenza pugliese, capace di incamerare sin qui 18 punti sui 18 a disposizione e di vincere 8 partite su 8 in stagione, comprendendo anche la Coppa Italia, dovrà fare a meno del suo giocatore più incisivo. Numeri alla mano, 5 gole e 5 assist in 7 presenze stagionali per Strambelli, entrato già in 10 reti per la squadra di De Candia. Per studiare le alternative a disposizione dell'allenatore bianco-rosso conviene rivolgere lo specchietto retrovisore a una partita di quasi un mese fa. 8 settembre, vittoria per 2-0 al San Sabino di Canosa nella terza giornata di campionato. Allora Strambelli non era in lista, complice un virus che lo aveva debilitato e De Candia optò per un 3-5-2 molto elastico, capace di trasformarsi con il pallone tra i piedi in un 3-4-1-2. Alla Vopa le chiavi della tre quarti, con Turitto e Parisi a occuparsi delle corsie laterali e la coppia Lopez-Lattanzio in avanti, un'opzione che generò frutti con il gol di la Vopa che aprì le marcature nel 2-0 finale e potrebbe essere riproposta anche sul campo dell'Arborisbelli con un paio di punti interrogativi pendenti. Draga in queste giornate sembra infatti aver guadagnato posizioni su Parisi ma non è da sottovalutare affatto anche la possibile presenza dal primo minuto di Rotondo, autore di una prestazione positiva nel successo casalingo sul Novoli con tanto di assist per il 2-1 di Strambelli. Valutazioni da legare anche agli impegni successivi con il turno infrasettimanale in agenda 4 giorni dopo, giovedì pomeriggio, con la sfida casalinga al Massafra. Ci sono poi i numeri che prescindono dal singolo, la sensazione è che al campo sportivo Shanni Ruggeri vada in onda un incrocio simile a quello tra Davide e Golia. 16 punti separano il Barletta dal prossimo avversario ancora a secco di vittorie in campionato. Tra le Muramiche l'Arborisbelli ha perso con Corato e fogge in Cedit pareggiando senza reti con l'Atletico Racale. Lontano dallo stadio Cosimo Puttilli invece Montrone e compagni hanno vinto per 2-0 con Unione Calcio Bisceglie e Canosa e per 7-0 sul campo del Corato, numeri che avranno valore fino al fischio d'inizio in agenda alle 15.30 di domenica.